I ragazzi della prima B dell'Istituto di Amicis di Busto Arsizio hanno elaborato con materiali di riciclo dei cappelli partendo da un fiore. Buona visione! La rosa Il girasole La margherita Il fiore d'aliso La d'alia Il fiore di loto L'erba Il ciclamino La saponaria La linfea Il fiore di loto 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 Grazie.